Buongiorno Notizia. Le otto e trentasei ancora ben trovate. Buongiorno Notizia, il momento dell'ospite in studio. Oggi parliamo con la consigliera comunale di Catania, Ercilia Saverino, che è anche vicepresidente della Commissione al Patrimonio. Buongiorno e bentrovata. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Parliamo di un argomento importante perché lei proprio ieri è intervenuta con una nota ufficiale sul Palasan Teodoro. Ci troviamo a Librino perché ha chiesto, ha sollecitato l'avvio di un progetto articolato per recuperare l'intero impianto. E allora partiamo con ordine. Quali sono attualmente le condizioni di questo Palasan Teodoro? Allora, naturalmente questa è un'attenzione che non inizia oggi, non inizia ieri, ma che è iniziato cinque anni fa con la nostra consigliatura. Parlo nostra perché non solo io come vicepresidente della Commissione Patrimonio, ma anche essendo componente sia dei lavori pubblici che anche del bilancio, della Commissione Bilancio, è normale che abbiamo attenzionato tutto quello che era secondo le varie competenze delle commissioni, che poteva essere invece importante come appunto per il patrimonio e naturalmente tutti gli immobili della nostra amministrazione, di proprietà della nostra amministrazione, che da una parte potevano essere abbandonati o che erano stati vandalizzati. Non solo sportivi, diciamo. Non solo gli sportivi, no, naturalmente non solo impianti sportivi, ma un po' tutto. Quindi molti hanno un ritorno economico, perché è ovvio che se parliamo di bilancio, effetti passivi, perché se noi non utilizziamo i nostri beni e andiamo invece è uno spreco. E quindi naturalmente dal punto di vista economico, dal punto di vista sportivo, per quanto riguarda tutti gli impianti sportivi, ma soprattutto anche dal punto di vista sociale. Perché molte di queste realtà poi hanno veramente, svolgono una funzione sociale ed è quella che poi insomma il messaggio che noi sempre vogliamo mandare, un messaggio propositivo, quello sì, da una parte le responsabilità dell'amministrazione, però dall'altra parte anche questo nostro sentire l'appartenenza che un bene comune appartenga alla città. Per quanto riguarda il Sant'Odoro, infatti, il Sant'Odoro loro naturalmente i briganti hanno fatto, hanno fatto un lavoro egregio, veramente sono stati bravissimi. Noi l'abbiamo seguiti, abbiamo fatto anche delle riunioni proprio in loco, portando l'assessore, portando anche i tecnici. Ricordiamo società che si occupa di rugby. Di rugby, sì, ma soprattutto è anche quello, credo che oltre appunto all'attività sportiva, allora hanno questo anche grande impegno sociale nel sociale, perché noi sappiamo bene che qualsiasi momento di aggregazione poi in fondo serve per tirar fuori anche e per impegnare tutto quello che è i ragazzi, quelli che sono i ragazzi di un quartiere che oggi è Librino, ma può essere Picanello, può essere qualsiasi altro. Quindi loro hanno fatto un grandissimo lavoro. L'amministrazione è stata vicino, anche con molte difficoltà, perché non ce lo nascondiamo, i problemi economici li abbiamo avuti e li abbiamo tuttora. Però appunto più volte è stato sollecitato il nostro impegno, la nostra attenzione, perché non solo recuperare il clubhouse che ora appunto ha subito l'incendio, però abbiamo visto che in quel momento è scattato un momento di grande generosità, perché poi noi catanesi siamo veramente generosi, quindi quando c'è qualcuno in difficoltà ci mettiamo tutti a disposizione. Per ricostruire questa struttura. Sì, sì, per ricostruire. Tutto attorno però c'è il degrado. Ancora, tutto attorno naturalmente è tutto l'impianto, però oggi anche alla luce dei consulenti, i nuovi consulenti del sindaco, che sono degli addetti ai lavori, per cui degli sportivi, e quindi naturalmente si è creata, io dico sempre, quel tipo di attenzione che è più da addetti ai lavori, quindi magari si riesce a capire come intervenire in maniera più celere. E dal piano, naturalmente sono state già proprio ieri, c'è stato questo tavolo in cui si è pensato appunto di indirizzare alcuni soldi, alcune realtà economiche che stanno arrivando, su appunto la ristrutturazione più che altro, insomma, sul recupero di tutto l'impianto sportivo, perché è fondamentale questo poi. Ecco, non c'è soltanto il campo utilizzato dai briganti. No, ci sono tanti campetti, ci sono le erbe sintetiche, ci sono i campetti di calcio, ci sono gli spogliatoi, ci sono i botteghini, un po' tutto che oggi è abbandonato e che è invece fondamentale. Potrebbe servire davvero al quartiere? Sicuramente. Di Pala Sant'Eodoro, di quartiere Librino e non solo, continueremo a parlare con la consigliera comunale Ersilia Saverino tra pochi minuti, intanto spazio alla regia per la musica. Alle 8.50 ancora in studio con il nostro ospite, la consigliera comunale Ersilia Saverino, con lei stiamo parlando di strutture sportive, stiamo parlando della situazione che si vive al Pala Sant'Eodoro con un degrado acclarato. Quali sono le proposte che lei come consigliera, come anche commissione, avete rivolto all'amministrazione comunale? Allora, innanzitutto quello appunto di istituire un tavolo tecnico che onestamente, come le dicevo prima, in questi giorni ci sono stati dei primi incontri, sono state stilate anche delle proposte, dal patto per Catania sono state anche individuate delle somme che dovranno servire per la riqualificazione del Sant'Eodoro, non solo, ma anche per tanti altri impianti sportivi, sia per l'illuminazione che anche per la rivalutazione dell'impianto stesso. E questo è fondamentale. Lavori che dovrebbero anche andare, perché quello che noi chiediamo è sempre la celerità, in modo da veramente riuscire a dare delle risposte. mi piacerebbe completare questa mia consigliatura, e la nostra comunque consigliatura, con dei risultati. Su tanti immobili li abbiamo già visti, perché magari sono state affidate a delle associazioni, si è parlato molto anche di questo, di mettere dentro tutte quelle che sono, e lavorare in sinergia tutte quelle che sono le realtà del nostro territorio, perché attorno a un impianto, o che sia appunto sportivo, o che sia un impianto che più che altro, faccia un lavoro sul sociale, naturalmente c'è una parrocchia, c'è l'amministrazione, ci sono i privati, c'è il quartiere. Quindi noi quello che abbiamo sempre chiesto, sin dall'inizio, che si crei questa sinergia tutti insieme, per lavorare per il benessere della città, e soprattutto per dare delle risposte per le esigenze del singolo territorio. Avete chiesto anche di vigilare su quest'area? Sicuramente, perché è ovvio che al momento in cui si va a riqualificare un impianto, è importante che tutto questo poi possa essere fruito anche con la sicurezza, quindi è normale che noi, cioè su un immobile abbandonato, è ovvio che è più difficile proseguire con una sicurezza, o che abbia sicurezza, è ovvio che una volta riqualificato, debba essere invece attenzionata anche da questo punto di vista. Naturalmente la coperta è corta, ce lo dobbiamo dire chiaramente, quindi è ovvio che è difficile, però bisogna agire con intelligenza, anche con grande volontà, e piano piano le cose si riescono a fare. Quindi ora, se entro aprile, veramente come ci hanno promesso, si riesca a portare avanti e a concludere questo lavoro su tutto l'impianto, sul centro sarebbe veramente fondamentale. Anche perché lei ha scritto nella sua nota, si tratta di un'area che rappresenta una vera e propria risorsa, non solo per il quartiere, ma per tutta Catania, per tutta la città. Certo, ma anche per tante associazioni sportive, che troverebbero anche lì il loro sbocco, non solo. Si possono, naturalmente tutti i nostri impianti, sono da offrire, come dicevo prima, e da proporre alle associazioni, alle federazioni, cioè significa non solo dal punto di vista economico, perché comunque c'è movimento, dal punto di vista sportivo, si possono creare, sono strutture importantissime, alcune che sono state fatte durante le università del 97, ma che veramente sono in grado di poter ospitare grandi eventi, e quello diventa non solo un volano economico, sportivo, sociale, insomma ha una sua veramente rilevanza, e quindi è quello che noi, a questo noi dobbiamo, naturalmente dobbiamo aspirare. Speriamo che queste vostre sollecitazioni giungano a buon fine, noi ringraziamo la consigliera comunale Silvia Saverino, per essere stata oggi qui con noi, averci parlato di questa bella realtà, che però va valorizzata, appunto, e va custodita e rilanciata, e l'aspettiamo magari per darci qualche altra buona notizia in futuro. Volentieri, volentieri, grazie a voi, perché è anche importante il lavoro che fate voi, di comunicazione, per noi è anche fondamentale. Grazie, grazie ancora, e a presto, buongiorno notizia, proseguo ancora con tante notizie e approfondimenti, ospiti in studio, restate con noi.